Gran Caffè La Fenice, bar, pasticceria, gelateria, la tradizione e la storia, la qualità dei nostri dolci per soddisfare i palati più fini e per festeggiare le ricorrenze più care, rosticceria, stuzzicheria, pausa pranzo, L'eccezionalità dei nostri cocktail, creatività e professionalità, rivendita da bacchi, ecco le nostre super offerte, ogni giorno ad 8 euro, menù con primo, secondo e contorno, Fenice Colazione, colazione veloce, caffè o cappuccino o espressino, più cornetto più spremuta, 4 euro, caffè o cappuccino più cornetto, yogurt o spremuta più cereali con latte, succo a scelta o tè freddo, tutto questo a 5 euro, Fenice Night, il nostro programma settimanale Lunedì, serata bollicine, prosecco più stuzzicheria, 5 euro Martedì, happy hours spino, 6 euro Mercoledì, happy hours free, stuzzichini più bevande, 5 euro Giovedì, serata spritz party, 5 euro Venerdì, puccia o piadina o panino più bevanda, 5 euro Sabato, pre-serata Fenice, dalle 22 alle 2, 3 euro e 50 Domenica, serata tè o cioccolato più pasticcini, 2 euro Gentilezza ed eleganza, qualità e professionalità al tuo servizio E vogliamo manifestarvi così il nostro affetto Grazie e auguri a tutti Gran Caffè La Fenice, via Mediterraneo 30 Taranto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti